Avrebbe dovuto sorgere a Ragusa, ma da tempo non se ne sa più nulla, e quanto affermo dal Movimento Civico Iblei merita la cosiddetta Casa delle Associazioni, che doveva essere appunto realizzata nel quartiere Carmine. Per il consigliere comunale Gianluca Morando, che ha girato il quesito al sindaco Piccitto, era stato lo stesso comune, oltre due anni fa, ad annunciare la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per la creazione della struttura. In questo modo si intendeva rispondere in maniera adeguata alle numerose richieste da parte di associazioni di settori attive in città, di locali e spazi, al fine appunto di poter contare sulla disponibilità di una sede per svolgere le varie attività. Ad oggi del progetto iniziale, rileva il consigliere del Movimento Ibleo, non si sa più nulla, tanto da far ritenere che lo stesso sia malamente abortito. Sarebbe quindi opportuno per Morando che si faccia chiarezza sui motivi di tale fallimento rispetto alla creazione di una realtà che si sarebbe potuta inserire pienamente nel percorso di valorizzazione dell'impegno di tante associazioni presenti a Ragusa. Grazie a tutti.